Fare questo intervento, potevo fare solo pochi passi e mi dovevo sedere. Sono un paio d'anni che non uscivo più di casa, solo per venire all'ospedale. Arrivavo morta qua sopra. Adesso riesco a camminare. Lei ha un telecomando? Ha già imparato a utilizzarlo? Sì, un telecomando. Questo lo devo mettere vicino all'apparecchietto che c'è dietro e con questa specie di telefonino regolo per alzare le vibrazioni o per abbassarle. Piano Lobbianco, anestesista e specialista della terapia del dolore. Per la prima volta al Giglio sono stati impiantati due neurostimolatori midollari proprio per lenire il dolore in due pazienti affetti da lombosciotalgia. La neurostimolazione midollare è una delle tecniche più affascinanti di chi fa terapia del dolore interventistica mininvasiva e permette attraverso l'impianto di elettrodi all'interno dello spazio epidurale di attraverso un campo elettromagnetico che si crea grazie agli elettrodi che vengono impiantati direttamente nello spazio epidurale creare un cortocircuito del dolore per quelle patologie di dolore cronico neuropatico che interessano la zona lombare e anche gli arti inferiori. Quanto sono grandi questi neurostimolatori e come vengono impiantati? Lo stimolatore midollare ha un diametro molto piccolo viene impiantato sotto cute in una tasca che viene creata nel fianco o sopra gluteo e divisa l'impianto di stimolazione midollare in due componenti, in due parti la prima parte è fase trial in cui si prova soltanto l'elettrodo e viene collegato attraverso una tunnelizzazione tutto in via per cutanea, quindi senza anestesia generale questo è molto importante stressarlo attraverso appunto degli elettrodi che vengono posti all'esterno quindi tunnelizzati all'esterno e la prima fase trial di prova il generatore di impulsi è collegato esternamente successivamente dopo qualche settimana verrà impiantato, se il paziente gradisce l'effetto appunto la riduzione del dolore quello definitivo sotto cute. Come cambia la qualità della vita del paziente in cui viene impiantato questo device? L'indicazione all'impianto di stimolazione midollare e quindi la qualità della vita migliora notevolmente in tutti i tipi di dolore cronico e dolore neuropatico, ad esempio degli arti inferiori alle distrofie simpatico riflessi sarebbero complex regional pain syndrome banalmente la lombocetalgia da stenosi nel canale che può essere congenita o acquisita post chirurgia entrambi i pazienti erano affetti da lombocetalgia bilaterale a destra soprattutto in entrambi i pazienti una paziente, la signora aveva una lombocetalgia bilaterale da stenosi nel canale acquisita quindi una riduzione del diametro del canale acquisito e congenito mentre l'uomo ha una stenosi nel canale acquisita da chirurgia quindi molto spesso alcuni tipi di chirurgia del drachide possono andare incontro a dei fenomeni che coinvolgono la riduzione del canale midollare e quindi anche lì lombocetalgia grazie all'impianto di questi due stimolatori i due pazienti entrambi deambulavano con le stampelle e adesso invece hanno mollato entrambi i pazienti l'utilizzo della stampelle con un pain relief cioè con una riduzione del dolore netta da 7 prima dell'intervento da 0 a 10 nella scala del dolore a 0 quindi viene messo questo device all'interno del corpo e una cosa particolare è che al paziente viene poi dato un telecomando come un telecomando di una televisione qualsiasi questo telecomando che funzione ha? questo telecomando permette di far scegliere al paziente il tipo di stimolazione infatti la neurostimolazione midollare è molto affascinante perché ci permette di creare delle forme d'onda attraverso lo spazio epidurale che coinvolgono le corna dorsali del midollo spinale coinvolgendo le corna dorsali del midollo spinale noi possiamo scegliere il tipo di stimolazione il tipo di forma d'onda che preferiamo anzi che preferisce il paziente in base al tipo di patologia quindi se è prevalentemente una patologia vascolare si è visto che la stimolazione tonica è quella stimolazione di forma d'onda preferita preferita appunto sia dal paziente ma dal punto di vista anche di scientifico è quella scelta il telecomando ci permette di far scegliere al paziente la forma d'onda quindi se sentire alcuni tipi di parestesie con la stimolazione tonica o non sentire con la stimolazione parestesia free ha chiesto lei l'impianto di questo simulatore? sì certo dopo la spiegazione del dottore Lobbianco ho avuto tanta fiducia di continuare a fare quello che diceva il dottore Lobbianco e adesso ne sono consapevole sono contento di averlo fatto perché ho risolto i miei problemi